Omicidio, suicidio ed agropodi, ieri mattina presso i laboratori dei Carabinieri di Arrisse a Roma, sono stati svolte nuovi accertamenti tecnici non ripetibili sul materiale ripertato all'interno dell'appartamento di Via Doninsetti, dove la mattina del 22 gennaio scorso furono trovati senza vita i coniugi Anna Lisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, rispettivamente di 43 e 63 anni. Si tratta di nuove verifiche disposte dal PM inquirente Antonio Pizzi della Procura di Vallo, finalizzate alla ricostruzione dell'esatta dinamica della tragedia che si è consumata all'interno delle mura domestiche dove la coppia viveva con la figlia minorenne. La principale ipotesi investigativa resta quella dell'omicidio e suicidio dell'uomo con un coltellaccio, ma non escluso che Vincenzo Carnicelli sia stato ferito a morte dalla moglie nel tentativo di difendersi con un taglierino. I militari del RIS di Roma avevano già eseguito i primi accertamenti sul materiale ripertato lo scorso 15 marzo, facendo seguito al sopralluogo avvenuto nell'abitazione della coppia cilentana lo scorso 22 febbraio. In quella data i carabinieri del RIS di Roma e i colleghi del SIS di Salerno hanno eseguito nuovi rilievi e il ripertato ulteriori elementi utili alla ricostruzione della tragedia, tra cui la presenza di tracce ematiche in cucina, nel salotto e nella cameretta, dove i due corpi furono rinvenuti uno addosso all'altro sul pavimento. Dopo gli accertamenti eseguiti nella capitale a marzo, gli investigatori hanno ritenuto necessario effettuare nuove verifiche. Il fascicolo di indagine contro ignoti è in ordine al reato di omicidio ed individua come persone offese la figlia minorenne della coppia e tutti i familiari.